Ehi ragazzo, cosa succede? Che succede da queste parti? Perché tutta questa gente se ne va dalla sua città? Oppure si è accampata qui come una tribù di zingari? O non lo sai neanche tu? Come non lo so? Sono io il messaggero, sono io quello che porta le notizie. Sarebbe bella che non lo sapessi. E allora? Vieni con me, vieni. Vieni con me, vieni. Vieni con me, vieni. Vieni con me. E Tiresia, il profeta. Vieni con me, vieni. Ecco, sta là sopra la disgrazia della nostra città. E se è venuta su da un abisso e sta là su a farci paura. Stavamo tanto bene noi. Chi se lo sarebbe mai immaginato? E nessuno ha coraggio di ricacciarla in fondo al suo abisso. Anche se chi ci riesce diviene marito di giocasta, la regina di Teppi. Così la nostra città è finita. Tutti se ne vanno. E chi ci resta, che cosa ci resta a fare? Dove vai? Dove vai? Non andare! Non andare! È inutile! Morirai! Vieni qui, che cosa fai? Torna indietro! C'è un enigma nella tua vita. Qual è? Non lo so, non voglio saperlo. È inutile, figlio. Non voglio vederti, non voglio vederti, non voglio sentirti. È inutile, è inutile. L'abisso in cui mi spingi è dentro di te. Grazie. 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 Grazie.